Anche di questo parleremo dopo, ma intanto io volevo ringraziare enormemente, perché sarà con noi lungamente ed è davvero una persona speciale, il direttore di Rai News 24 Antonio Di Bella. Buonasera Antonio e grazie per essere ancora con noi. Buonasera Fabio, buonasera Filippa, buonasera a tutti. E saremo insieme lungamente nelle prossime settimane anche. Allora, giornata intensa, Antonio, ci dici che cosa è successo? Guarda, in estrema sintesi i numeri, tutti aspettiamo il calo del picco, ma al contrario i numeri continuano a darci un bilancio negativo. Oggi il numero complessivo dei pazienti positivi è di 6.387, che vuol dire 1.326 in più rispetto a ieri, cioè più 26,2%. Quindi non vediamo ancora la fine di questa salita, 366 morti, 133 in più rispetto a ieri e 2.180 persone in isolamento. Quello che preoccupa sono i reparti di terapia intensiva, perché 650 persone sono in terapia intensiva, 87 in più rispetto a ieri. E questo, come hai detto, crea problemi proprio nei reparti della Lombardia. Si comincia a mandare pazienti di terapia intensiva in altre regioni e questa è un'emergenza sanitaria. Mi pare che siano 13 i pazienti oggi che sono stati portati in altre regioni sino a questo momento. Un'altra cosa che non si è capita, almeno che io non ho capito, è se è stato tolto il blocco, oltre che da Vaux-Euganeo, anche da Codogno. Beh, sì, nel senso che noi abbiamo le nostre inviate, poi ne sentiremo una di loro in zona, e ci hanno detto che da lì si esce, sia da Vaux che da Codogno. Dobbiamo dire che abbiamo testimoniato con le nostre inviate un po' di confusione per la interpretazione, tanto che adesso ci sarà un'ordinanza ai prefetti per precisarla, e questo ha provocato un po' di sconcerto, un po' di confusione. Se siete d'accordo Fabio, io farei un breve collegamento con uno dei nostri inviati di Rai News, che ringrazio per il lavoro che stanno facendo, che è già collegata con noi, dovrebbe essere collegata con noi Chiara Paduano, proprio dal salotto di Milano, cioè dalla galleria Vettore Emanuele, che ha testimoniato un po' questa giornata in cui prima c'era la gente, poi c'era la corsa ai treni, adesso non c'è più. Com'è la situazione? Adesso, Chiara, se ci senti, dove sei esattamente? Siamo nel cuore, potremmo dire, di una Milano in silenzio. La vedete Piazza del Duomo, la galleria Vittorio Emanuele quasi deserta. Solo gli agenti della Polizia Municipale a verificare che i bar e i ristoranti siano chiusi, così come è stabilito dall'ordinanza, dal decreto della Presidenza del Consiglio, un decreto che molto probabilmente Milano non si aspettava. Due immagini di una stessa città, quella di ieri sera che abbiamo visto prendere le valigie, raggiungere un treno, le proprie macchine per andarsene, la Milano invece che ha deciso di restare, che fino a poche ore fa affollava ancora il centro, i parchi della città per voler continuare a vivere, invece quella di questa sera che sembra davvero aver recepito l'invito della politica ma anche degli scienziati a quella responsabilità sociale. Dunque a stare a casa per cercare di ridurre il contagio del virus. Ti ringrazio e mi permetto di dire, vedendo il Duomo alle tue spalle, di ricordare che fra poco, poco dopo le 20, avremo in studio l'onore di avere l'arcivescovo di Milano, Sua Eccellenza Monsignor Delpini, che si rivolgerà alla città, alla Lombardia e alle zone, a tutta l'Italia, in realtà interessata ormai da questo virus. Come dicevi tu Antonio, la confusione di queste settimane non ha aiutato. Siamo passati da una spensierata idea che si potesse risolvere tutto in breve tempo, a un'improvvisa durante un weekend dove la gente ha affollato le spiagge e quant'altro, le montagne, improvvisa chiusura repentina e totale che ha creato ancora più confusione. Guarda, ci sono stati momenti drammatici ieri sera in particolare perché è uscita l'indiscrezione della bozza, del decreto, io ho ricevuto centinaia di telefonate e di richierimenti in particolare. Cosa vuol dire? Non bisogna evitare lo spostamento, ma salvo che per comprovate esigenze lavorative. Quindi veramente sono momenti drammatici, appunto ci saranno delle circolari esplicative, per esempio i trasfrontalieri si è appreso, chi lavora cioè in Svizzera dalla Lombardia possono lavorare, le merci possono circolare, ma è chiaro che in tanti hanno assaltato i treni, sono scappati, momenti di panico. Oggi le cose forse vanno un po' meglio, speriamo almeno. Va bene, grazie Antonio, grazie a Chiara Paduano per intanto. Antonio, se tu puoi restare con me, perché io approfittando sempre di Red News 24, vorrei provare ad allargare lo sguardo e a fare una riflessione più generale, perché ho come l'impressione che quello che noi stiamo vivendo e che a nostra sensazione sta per investire l'Europa intera, non sia percepito come tale, invece nei paesi che verranno riguardati da questa vicenda. Vorrei andare intanto a Berlino, dove c'è Rino Pellino, il corrispondente della RAI. Buonasera Rino e grazie per essere con noi. Buonasera. Appunto, qual è la situazione attuale intanto? Quanti sono i contagi e quali sono le misure del governo? Allora, aggiornamento alle ore 18.27, i contagi in Germania sono 1.052, però sul territorio tedesco non c'è stata fino adesso nessuna vittima, non c'è neanche un decesso. Il primo decesso certificato di un tedesco arriva però dall'Egitto, un signore di 60 anni, è arrivata la notizia in serata, che era andato a Durghada per una vacanza e era arrivato in Egitto una settimana fa. Venerdì scorso è stato ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sono peggiorate molto velocemente, tanto appunto da arrivare al decesso. La notizia è stata data poco fa dal ministro della Sanità egiziano. Rimane questo dato, 1.052 casi sono tanti. Alle tue spalle, immagino che siano immagini, non so se in diretta o registrate, ma non lo so, c'è la porta di Brandeburgo? C'è la porta di Brandeburgo. Ma c'è soprattutto tanta folla, c'è tanta gente. Cioè voglio dire, la percezione è che tutto scorra normalmente. Cioè il governo non sta facendo nulla, non ci sono misure di nessun tipo? Allora, non ci sono misure come quelle da noi. Nel senso non ci sono zone rosse, non sono state istituite zone rosse neanche in Nord-Renovesfalia, che è la regione con il focolaio più forte. C'ha circa 500 casi accertati. Non sono state fatte delle chiusure solo qui e là di qualche scuola, perché le scuole sono di competenza regionale, così come anche alcune misure di sanità. E quindi c'è anche un po' di confusione da questo punto di vista. Però sostanzialmente non sono state prese delle misure drastiche come da noi e soprattutto la gente ha ancora la percezione che si tratti un po' di una specie di isteria che sta attraversando l'Europa. Contemporaneamente si continuano a giocare a porte aperte le partite di Bundesliga. Se si ragiona sul fatto che, appunto, dicevamo, la regione del Nord-Renovesfalia è quella con il focolaio più ampio e qui ci sono solo del Nord-Renovesfalia sette squadre di Bundesliga. Se si aggiungono gli altri due focolai più importanti, ovvero la Baviera con oltre 250 casi e il Baden-Württemberg, si arriva a 11 squadre su 18 e si continua a giocare. Fino a questa mattina il ministro della Sanità, Spahn, ha difeso questa posizione, ha detto che non c'è bisogno di prendere delle misure tanto drastiche, poi in serata ha detto che secondo lui potrebbe essere necessario dover rinunciare agli eventi che prevedono più di mille partecipanti. Ma al momento non è stata presa nessuna decisione in materia. Bisognerà vedere se verranno prese dopo la riunione di coalizione che è in corso in questo momento a Berlino. Ma l'impressione mia è che fino ad adesso si siano prese più misure per tutelare l'economia e probabilmente anche stasera potrebbero arrivare delle misure a tutela dell'economia. Per il momento non ci si preoccupa troppo del discorso di salute perché non ci sono ancora casi mortali. Grazie Rino, grazie davvero. E faccio la stessa cosa andando a Parigi questa volta dal corrispondente della RAI Iman Sabah che ringrazio. Buonasera Iman, come stai? Tutto bene intanto? Buonasera, buonasera. Tutto bene, grazie. Stessa cosa, la situazione sta rapidamente peggiorando ma sembra, almeno da quello che mi arriva da te, dalla televisione e anche da persone che vivono a Parigi, che tutto scorra normalmente. E sembra così soprattutto nelle grandi città come Parigi perché in questo momento misure restrittive sono state prese solamente in due partimenti. L'UAS che tra l'altro si trova a pochi chilometri, una trentina di chilometri dalla capitale e nell'Alto Reno dove lì sono state, sì, chiuse le scuole per 300 mila alunni e sono stati vietati gli assemblamenti per più di 50 persone. Di poco fa anche la notizia della chiusura delle scuole anche ad Ajaccio nel sud della Corsica perché lì sono stati registrati 21 casi di contagio nelle ultime 24 ore. Abbiamo anche un dato anche qui in Francia per quanto riguarda i casi di contagio di oggi. alle ore 15 sono stati registrati 1126 casi accertati e 19 decessi. Mentre vi parlo è in corso all'Ileseo il terzo consiglio di difesa voluto da Emmanuel Macron per decidere il da farsi o eventuali misure da prendere per quanto riguarda la Francia. Qui siamo ancora, Fabio, nello stadio 2 dell'emergenza. Passare allo stadio 3 significa ammettere che siamo di fronte ad un'epidemia. Questa mattina ha parlato il segretario di Stato alla salute Dubon e ha detto che comunque un eventuale passaggio allo stadio 3 non riguarderà in questo momento tutta la Francia ma sarà valutato caso per caso, territorio per territorio. Ma questo non significa che non c'è paura. La vita a Parigi sembra essere normale perché tra l'altro oggi per esempio si è tenuta anche la consueta manifestazione in occasione della festa delle donne e migliaia di cittadini ne hanno partecipato. Mamma mia. Grazie Iman, grazie infinite. Credo e temo per te che ci sentiremo a lungo nelle prossime settimane. Antonio ci sono ultimi aggiornamenti per caso? Guarda sì, c'è una ultima ora. Chi dovesse andare in Austria attraverso il brendola si ripari a lunghe code e a controlli perché dall'Austria arriva la notizia che martedì scattano i controlli sanitari. Al valico etalo-austriaco ci saranno delle squadre di poliziotti che fermeranno chi arriva, misureranno la temperatura corporea chiederà da dove siete partiti e se sono partiti dalle zone, cioè da tutto il nord Italia saranno probabilmente bloccati mentre dall'Austria si invita sempre a non arrivare, a non venire in Italia. I voli Vienna-Milano sono interrotti. Va bene, io credo che il varco dell'Odigiano sia attivo sino a mezzanotte il varco di Codogno c'è ancora io avevo chiesto di poter parlare col sindaco ma invece il suo ufficio stampa ci ha detto improvvisamente che non era più disponibile a parlare con noi e pazienza, in questi momenti sarebbe meglio lasciare da parte ogni altra valutazione sono quella del bene comune comunque, del bene comune di informare le persone. Detto questo, grazie infinite Antonio a più tardi, lungamente